Il mio problema, comunque quello che mi metteva a disagio nei confronti della gente era quello di avere un naso leggermente gobbo e storto visto dal davanti. Con il mio nuovo naso adesso riesco anche ad avere un rapporto migliore quando ho rapporti con le altre persone perché comunque sono un po' più tranquillo diciamo e poi anche se il problema è se c'è qualcuno che mi guarda mentre io parlo mi faccio meno problemi e penso magari più a quello che sto dicendo invece che la gente che mi guarda e pensa al mio naso. Esteticamente comunque è anche più piacevole vedersi allo specchio e anche fare le fotografie diciamo che adesso non è più come prima ma che bisogna farsi delle pose apposta per evitare che si vedano i difetti. Avevo problemi di respirazione e ho avuto un grande beneficio da questo intervento anche da quel punto di vista oltre che da un punto di vista estetico. è assolutamente doloroso quindi lo consiglio anche a chi magari ha queste paure. mi chiamo Ilaria sono la ragazza di Corrado. Si nota molto, molta differenza e vabbè di profilo perché non ha più la gobba e non potrà più fare il famoso gioco del dito sul naso. Lo vedo anche comunque con la gente che comunque riesce adesso a parlare guardando negli occhi e più tranquillo. Lo vedo più sicuro di se stesso, vabbè per me era già bello prima e adesso figuriamoci quindi devo stare con occhi puntati ad osso a tutte le altre volpi. Volpi